Ciao, mi trovo qui in un posto bellissimo della Camargue, te lo mostro. Mi trovo fuori dalle mura di questo posto bellissimo che si chiama, adesso vediamo se lo dico bene, Eigmote, praticamente Acque Morte, anche se non è l'unico modo in francese per dire acque. Questo è il luogo, qui ci sono le saline, siamo all'orario del tramonto, e poi queste sono le mura della città che sono molto ben conservate, sono veramente molto molto belle. Venendo qui mi è arrivata un'ispirazione per cui ti faccio questo video, e vedi le mura, queste mura sono molto molto spesse, ci sono delle piccolissime feritoie per guardare all'esterno, e sembrano quasi invalicabili. È una città molto molto ben difesa. Che cosa ci dice questo? Perché ben sai che tutto quello che incontriamo può essere una metafora per noi e per la nostra vita, una metafora utile. Molto spesso l'essere umano tende a barricarsi dietro una serie di muri, di corazze, che pone di fronte agli altri nella propria vita, proprio per difendersi. Ma come ben sappiamo, qualsiasi muro, qualsiasi fortezza, qualsiasi barricata, in qualche modo può essere superata, distrutta. E quindi quello che ti voglio suggerire è piuttosto che innalzare dei muri nei confronti degli altri, nei confronti della vita, quello che ti suggerisco è di connetterti a te stesso, di connetterti al tuo cuore e di lasciare lo spazio attorno a te e di mostrarti senza difese. Perché quando tu sei senza difese, quando tu sei autentico, quando tu sei veramente te stesso non hai bisogno di difenderti da nulla, perché sei nel tuo potere, accogli quello che sei, le tue fragilità e ti accogli per quello che sei. Non hai più bisogno di mostrarti per corrispondere a degli standard, corrispondere a quello che tu pensi di dover essere, per difenderti dagli altri perché hai paura che ti attacchino, perché tu stesso non sei in grado ancora di amarti e di apprezzarti per quello che sei. Quindi lascia andare tutti i muri che hai costruito ed entra in contatto con la tua autenticità per mostrarti in modo trasparente e autentico, perché è lì che risiede la tua forza. E con questo ti saluto e ti auguro una meravigliosa serata. Rifletti su questo e ti suggerisco, se non sei ancora all'interno del gruppo Divine Connection su Facebook, di entrarci ora, perché ti permetterà attraverso tutto il lavoro che facciamo insieme di entrare maggiormente in contatto con il tuo potere personale e di lasciare andare tutte quelle paure che ti hanno impedito di mostrarti e di essere quello che sei veramente. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao, a presto!